Signori, quest'oggi non inizieremo con le solite tre domande che introducono il tema principale del contenuto, e da come avete letto dal titolo, guardandomi in questo momento, l'interrogativo potrebbe sorgere spontaneo. Dov'è la nuova postazione del canale, Arconte? Ve lo racconto. All'inizio della mia avventura qui su YouTube ho avuto modo di sperimentare diversi stili, e questo senza ombra di dubbio è il mio preferito, o almeno quello che le mie finanze potevano permettermi al tempo, e che mi sono ritrovato ad utilizzare dopo il mio stop dovuto alla professione che tuttora svolgo. Ma lasciando da parte cosa è stato prima del crogiolo, l'avere esposto diversi concetti con alle spalle letteralmente un buco nero, con una sola luce a scontornare la mia figura, l'ho trovata una pensata che per i primi tempi poteva anche essere più che sufficiente. E così è stato. Ma andando sempre più avanti nella programmazione, ho iniziato a sentire l'esigenza di avere una postazione che rappresentasse appieno il canale, dove negli anni ho parlato principalmente di TCG, raggiunto obiettivi molto importanti come l'intervista a Richard Garfield, presentato quattro carte in anteprima mondiale per Keyforge, intervistato Christian T. Pedersen, fondatore della FFG, iniziato collaborazione con Fantasia Store, primo sponsor del canale, Loop Games, Grande Inverno, di recente anche con la Game Genic e molto altro ancora. Insomma, volevo qualcosa di più... di più comodo, dove con un semplice click tutto sarebbe stato pronto all'uso, a differenza di adesso dove... beh, per ogni video che ho girato, montare e smontare l'intero set di luci, macchinari vari e via dicendo, ha rappresentato una condizio sine qua non, la registrazione non avrebbe avuto luogo, e di conseguenza il video infrasettimanale ed il consueto appuntamento della domenica. Fammi capire, Arconte, per girare un singolo video tu dovevi fare ogni volta tutta quella tiritera? Sì. Ed allora mi sono detto, dai, ora inizio a pensare a qualcosa, così magari un progetto lo butto su carta e... hai visto mai? Qualcosa di buono esce. Ed infatti dalla mente Arcontesca, qui presente, un bagliore di prospetto ha iniziato a nascere. E così, dopo averlo sviluppato per circa un mese, trovato il luogo dove poter realizzare l'idea ed avere il tempo di reperire i vari materiali, mi sono recato personalmente nel paradiso del mobile, l'IKEA, e subito dopo il mio arrivo, un senso di sconforto ha iniziato a prendermi. Quante cose da comprare con un budget così ristretto. Quello che credevo fosse un paradiso si è tramutato ben presto in un inferno di mobili, luci, sedie e quante più infernali diavolerie potessero essere state concepite dal sempiterno zolfo, che ogni volta incontravano il mio sguardo, mi inondavano la mente posizionandosi in un determinato spazio all'interno della stanza. Ma sono un Arconte, dopo tutto. E quindi ho desistito nel trasformare il portafoglio in uno scolapasta e mi sono diretto a piede spedito, ignorando le lusinghe degli altri suppellettili, verso le librerie, uniche e isole sicure, dove, dopo essere approdato, ho faticato e non poco sia nel trasporto che nel carico e scarico merci. Dopo aver effettuato i diversi acquisti, quindi, sono riuscito a scappar via dal primo volume ideato da Dante, uscendo così a rivedere le stelle. Oggi proprio poesia, signori. Ho iniziato così le elaborazioni nel nuovo studio e anche là non è stato facile riuscire a far quadrare il tutto. Problemi di spazio in primis, luce in secondo luogo, non c'erano proprio i lampadari e illuminazione della scaffalatura come contorno mi hanno dato del filo da torcere, ma alla fine ho trovato comunque una soluzione ad ogni dilemma. Ed è con ciò che è arrivato il momento di mandare in vacanza questo telo nero che mi ha accompagnato per moltissimo tempo, con tutto quello che oramai è diventato superfluo, come addirittura la sedia sulla quale sono seduto ed il faretto alle mie spalle. Perciò, care signori e signori miei, si spengono le vecchie luci per accenderne di nuove. Buonasera a tutti voi forgiatori. Signori, ben ritrovati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale e benvenuti nel mio nuovo studio. Devo dire che mi aspettavo meno intoppi per realizzare questa postazione, ma finalmente ci siamo. E ora? Ora, dato che ho sistemato la questione comodità, potrò concentrarmi maggiormente sulla scrittura dei vari video che arriveranno in futuro, nuovi episodi di TCG in meno di 20 minuti, live quando avrò una connessione internet stabile, vi aggiornerò attraverso le storie che pubblicherò su Instagram, troverete il link al profilo in descrizione, dove apriremo box e parleremo di accessori che vi torneranno utili durante le vostre sessioni di gioco, partite su piattaforme digitali come Master Duel, Duel Links per Yugi, Arena per Magic e Pokémon TCG Live per il colosso di casa Nintendo, ma anche grandi ritorni come il format Colleziono da Zero, dove avrò un po' di cose da mostrarvi. In più, nuove idee che sto escogitando che mi auguro vi piaceranno e molto altro ancora, come argomenti riguardanti Battle Spirit Saga, Vanguard, per gli appassionati di questi ultimi se non avete visto video a riguardo, ora sapete il perché, e diversi altri giochi di carte che arriveranno presto. Quindi signori, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo. E voi, siete pronti ad affrontare con me questo viaggio alla scoperta di nuovi TCG, approfondendo già quelli presenti sul canale? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.